Ma indosserò le scarpe più comode che ho e proverò a camminare senza inciampare ad ogni piccolo... Quelle che stiamo ascoltando sono le note di Con le mie scarpe, nuovo e primo singolo di Larizzo, nome d'arte di Alessandra Rizzo, livornese ma siciliana ad adozione ed anzi catanese a tutti gli effetti. Il singolo, uscito il primo dicembre, arrangiato da Edoardo Musumeci, chitarrista di Tinturia, racconta la storia di un percorso che è al contempo cammino di rinascita. Larizzo muove i primi passi musicali a soli cinque anni, da allora ne sono trascorsi altri trenta, tutti dedicati allo studio e all'amore per il canto e la musica. Noi le abbiamo chiesto quali sono state le tappe più importanti che hanno scandito la sua carriera. Ho sempre pensato che la musica scelga le persone, non siano le persone a scegliere la musica e io sono stata scelta. È un'esigenza, non ne posso fare a meno da quando sono piccola, ho dedicato tutta la mia vita soltanto a questo. Tutte le esperienze che ho fatto hanno contribuito a formare la persona e l'artista che sono oggi. È stato fondamentale ovvio l'incontro con Edoardo Musumeci che è stato per un periodo il mio chitarrista nelle serate live e poi è diventato il mio produttore artistico. Sicuramente l'incontro con Edo è stato molto importante per l'uscita del singolo ma anche per tutto quello che verrà. Nel canto è più importante la tecnica appunto oppure l'anima? Sono due cose che devono assolutamente convivere anche se l'anima si deve possedere e forse è più importante a volte arrivare al cuore delle persone piuttosto che essere tecnicamente perfetti. Un cammino lungo e di duro lavoro quello di Alessandra Rizzo che approda oggi ad un singolo che parte di un progetto discografico e preludio all'album. Il video che accompagna il brano è stato girato a Siracusa da Nanni Musico che è già stato regista per artisti come Alex Britti, Mario Venuti e tanti altri artisti. Benché girato in Sicilia, Con le mie scarpe nasce fuori dalla terra di Sicilia in un periodo in cui Larizzo ha vissuto a Dublino ed è una presa di coscienza l'accettarsi per quello che si è e al contempo una dichiarazione di indipendenza. Con le mie scarpe è un primo brano che mi dà la possibilità di affacciarmi a questo mondo, il mondo appunto cantautoriale e è un brano che parla di un percorso personale molto importante però all'interno dei miei brani parlo sempre di me, questo non si può negare. È stato seguito totalmente da Edoardo nell'arrangiamento e con tantissimi consigli importanti dati da Riccardo Samperi dove abbiamo realizzato poi materialmente in studio l'album. Il brano racconta di una consapevolezza nel cercare di conoscersi facendo convivere parti che a volte si trovano anche in contraddizione tra loro e semplicemente cerco di intraprendere una strada da sola con le mie scarpe cercando di non fare gli errori che magari spesso si fanno. E tutto va lasciato...